È una nazione che parla esclusivamente di bar, ristoranti, discoteche, teatri e non si occupa dei figli, cioè non ci occupiamo dell'anno e mezzo perso a scuola. È una tragedia culturale, cioè noi siamo una nazione che invece di pensare alla cultura dei nostri figli, al progresso loro personale, al loro benessere psicofisico, pensiamo al bar aperto, alla pizzeria, all'asporto, con tutto il rispetto per la categoria.